Benvenuti su Matteo Giuliacci, il tempo previsto per giovedì 23 maggio. Sull'Italia si allunga dalla Spagna l'anticicolone nordafricano ma limitatamente al nord Italia. Sul resto della penisola invece ancora soffiano freschi venti in arrivo dai Balcani. Ecco allora il tempo previsto, come qui potete vedere ci sono sì dei fenomeni rovesci e temporali ma sulle regioni appenniniche ma sono riferite solo alle ore pomeridiane, al mattino e nella sera farà bel tempo su tutta l'Italia. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno con massimi intorno a 18-20 gradi sulle regioni centro-meridionali invece sul nord Italia dove è presente questo debole anticiclone nordafricana le temperature massime potranno essere tra 22 e 24 gradi. Termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliacci. Vi ricordo di scaricare la nostra app gratuita dalla nostra home page che è in assoluto l'app più semplice da usare. Vi saluto ancora, Maria Giuliacci.